Cattivi odori, aria pressoché irrespirabile nei pressi del depuratore di San Martino a Chetiscalo gestito dal Consorzio di Bonifica. Lunedì scorso il sopralluogo dell'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, per capire quale possa essere l'origine. I tecnici hanno rilevato carenze gestionali che potrebbero essere fonte di emissioni osmogene. L'assessore comunale alla sanità Fabio Stella. Assessore, cittadini e sasperati senza dubbio alcuno, è un problema da risolvere, in che modo? Allora il depuratore ha dei problemi e sono noti. L'Arta è andata a fare delle ispezioni e dice l'Arta apertamente che dipende da delle problematiche che non sono state risolte e che non sono già conosciute. L'origine però di questi cattivi odori? Lì ci sono dei fanghi, c'è l'impianto di depurazione e l'impianto di depurazione deve avere delle coperture tali da poter impedire che gli odori vadano in giro sostanzialmente. Comunque comunicheremo anche all'Asle che ci sono queste problematiche perché oltre alla questione dei cattivi odori vogliamo sapere se ci sono problemi legati anche alla salute. Assolutamente, l'Arta tra l'altro ha rilevato che gli adeguamenti andavano fatti dal 2019 e ha proposto 9 misure di correzione. Sì, ha proposto 9 misure di correzione adesso, però anche a febbraio aveva proposto altre misure. Noi come comune vogliamo anche capire se gli odori derivano solo dall'impianto di depurazione o anche da altre fonti perché è giusto che i cittadini siano messi a sicuro da quelli che possono essere problemi legati alla salute. Ecco perché avete interpellato l'Asle? Sì, interpelliamo l'Asle proprio per questo motivo perché l'Asle comunque è l'ente che può in qualche modo intervenire in maniera più compiuta. Ci sembra che la regione politicamente abbia poca attenzione nei confronti del comune di Chiti. Continuano le rimostranze decise dei cittadini che sono esasperati. Voi come riuscite a gestire questa situazione? Allora noi captiamo quelle che sono delle lamentele, però invitiamo tutti i cittadini a segnare formalmente al comune via mail quelle che sono le problematiche sia gli orari che anche le zone della città in cui vengono in qualche modo captate questi cattivi odori, in modo tale che noi possiamo agire in maniera più puntuale per cercare di risolvere la problematica.